Grande Aldi, certo anno di lato, c'ho lato a Murianka Sennò fa che lo capisci, fa lo capisci La sorella lo chiamava, quello ci faceva anche Bellissimo Giovanni, cosa fai? Hai detto che aspettavi Sssh, che cosa ti facciamo a vedere? Ah, scusa No, io non mi torno a comprare Guarda che l'impresa, guarda che l'impresa Giga E tu che rimane bene? No, no, no E quali che ha giocato? Che operatore come c'è di entrare in campo Ah, non c'è! Un primo piano sul nonno, un primo piano sul nonno Ah, ok Poi c'è gente di Ciclina che se la apria E' il no No, non ti capisci No, non li ho No, non li ho No, non li ho Dove è chi? Prendi i tanti per il cito Che mangi? È chi?